Bene ragazzi, sono Daryl e bentornati sul canale dei Grananas E oggi sono senza Xenic, mi sento un po' perso senza rubare il mio fianco Detto questo, oggi sono qui con un vlog che, come voi vedrete, non facciamo molto spesso vlog Ma comunque questa volta ci sta, perché oggi intanto devo uscire un video con Frax Ma purtroppo non penso che uscirà mai, a meno che non ci siano miracoli Perché non renderizza il video, al 20% si blocca, cioè sta due giorni, fermo e non finisce di renderizzarsi Peccato perché comunque era un video molto bello, molto veramente bene e molto divertente E quindi mi dispiace parecchio, ma sicuramente c'erà occhiasoni per farne altri con Frax E insomma, scialla Visto che comunque siamo qui con questo vlog, approfitto per dirvi delle cosette Giusto, cioè dico delle cose proprio perché magari delle cose che chiedete sempre in continuazione Oppure delle cose che voglio annunciarvi Quindi usiamo questo vlog un po' per dirci tutte le cosette Così io e te davanti E niente, cosa che ci chiedete sempre? Ci chiedete sempre la crossbar challenge Ma quando arriva? Allora, tranquilli che arriverà Abbiamo deciso di fare comunque degli episodi che non escano tutti insieme Perché volevamo diluire la cosa, anche perché era più carina come cosa Poi comunque se avessi visto tre episodi uno dopo l'altro sarebbero stati tutti uguali Comunque non ci sarebbe stata la novità Invece così diluite nel tempo sono anche più divertenti da guardare E quindi abbiamo deciso di fargli diluire nel tempo Quindi probabilmente uscirà questo mese se riusciamo a registrarlo Perché comunque ci dobbiamo mettere d'accordo in molte persone per fare quel video Uscirà penso sul cane di Frax, il secondo, non sul nostro come avevamo già detto Ma poi il terzo sicuramente uscirà sul nostro Che altro dire? Altre aggiornamenti Una cosa importante Vi diremo che saremo presenti al 100% a Romics Quello che esiterà a inizio ottobre E un buon 80% al Games Week Questo è subordinato diciamo al fatto che dobbiamo riuscire a pagarci il treno Perché molti pensano che con YouTube si fai veramente tanti soldi Ma noi non siamo nella situazione che non riusciamo neanche a pagarci il treno Quindi pensate quanti soldi si fanno con YouTube Visto che date, dite che si guadagna i milioni Non è così, non fatevi incantare dai discorsi che vi fanno Perché veramente non è così Poi vabbè, non mi va nemmeno di stare a parlare questa cosa Perché tanto sono cose dette e ridette E chi ci vuole credere ci crede E chi non ci vuole credere Tanto ha la sua direzione del complotto in testa E morirà così Senza cambiare idea E che altro dirvi? Poi, giochi che porteremo sul canale Ecco, video che porteremo sul canale Allora, la challenge che doveva uscire oggi Quella di Confrax È ormai una serie consolidata sul nostro canale Perché abbiamo deciso di fare questa challenge Ogni goal qualcosa Come fosse un cazzotto Un ghiaccio nelle mutande Tutti quelli che avete visto, insomma Non schiaffo E abbiamo deciso di farla ogni mercoledì Quindi il mercoledì diventerà il giorno delle sfide Di FIFA E questa sarà proprio Sicura al 100% Poi abbiamo deciso di fare anche una serie su Meagol Infatti, se riusciamo Dovrebbe uscire un video su Meagol Questo fine settimana Venerdì, sabato o domenica Non lo so E poi abbiamo deciso di fare Le giochi Diciamo, giochi in da computer Per esempio, tipo Cat Mario e P.Wills Quelli che abbiamo visto ultimamente Come Best Friends Il video su del PlayStation Plus Del gioco del PlayStation Plus Oppure abbiamo fatto Drunk and Brestlers Abbiamo fatto, non lo so Social Physics Queste cose qua Che ancora non abbiamo fatto ma faremo E niente Poi abbiamo deciso che ogni mese uscirà un fuck La domenica Un top ask Un'altra domenica Se riusciamo Vorremmo riuscire a fare anche un prank Ogni mese Cioè una domenica del mese E se riusciamo anche a fare qualcosa In calcio Sfile di calcio in real Come avete visto Per esempio la crossbar challenge Quella è un'idea Pensiamo di portarla anche noi Non la crossbar ovviamente Perché la faremo con Red and Frax Ma video nostri Che ne so Segnare a piedi legati Che cazzo ne so Comunque queste sfide qua Questo tipo di sfide qua E che altro dirvi Niente Mettete mi piace Che tanto per i complottari Non Non dà soldi Mettere mi piace Ah vabbè In descrizione c'è sta Instagram E c'è sta Facebook Quindi siete pochi rispetto a quelli che abbiamo sul canale Ma anche rispetto a quelli che vedono i video Perché vediamo che comunque abbiamo un discreto seguito su ogni video Ma non abbiamo i video sulla pagina Facebook Non si va bene i video sulla pagina Facebook Ma che cazzo Non abbiamo i mi piace sulla pagina Facebook Quindi se magari Tu che stai guardando i video Che non hai messo un mi piace al palo della pagina Facebook Guarda Stai in descrizione Fai Alla Sono la bellezza di Uno Tu mostra altro Passate Due click Tre click Perché clicchi dentro E poi metti Mi piace Capito? Non è difficile Comunque Come abbiamo detto Passate Tutti i link in descrizione che vi ho detto E se vi va Perché non nessuno Obbliga nessuno E niente E noi ci vediamo domani Con un nuovo video sul canale Alle ore 15 Non mancate We want you E noi ci vediamo No mancate No mancate E noi ci vediamo